Mezzanotte 43, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. La situazione drammatica in Afghanistan è sempre in primo piano, continua inesorabile l'avanzata dei talebani che hanno conquistato anche Kandahar, seconda città del paese. Lo hanno riferito stasera funzionari del governo afgano all'Associated Press. Sembra prossima a cadere anche l'Ashar Gag, dove l'esercito regolare controlla ormai solo una base militare presa d'assedio dagli insorti. I talebani hanno ora in mano 12 dei 34 capoluoghi di provincia afghani, oggi è caduta anche Erat e sono arrivati a soli 150 chilometri da Kabul. Intanto il governo degli Stati Uniti ha invitato tutto il personale dell'ambasciata ad abbandonare al più presto il paese. Veniamo in Italia con l'emergenza incendi, il fuoco sta assediando soprattutto Sicilia e Calabria, dove vasti incendi stanno continuando a divorare le aree boschive. La situazione è seguita da vicino dal Presidente del Consiglio Draghi, che oggi ha assicurato il pieno sostegno al Sindaco di Reggio Calabria. Sentiamo. Dovrebbe partire il pezzo. Il Sud continua a bruciare, Calabria e Sicilia restano le due regioni più colpite dalla furia degli incendi. Il Premier Draghi segue da vicino la situazione, è stato il Sindaco di Reggio Calabria, Falco Matà, che l'aveva invitato ad un sopralluogo, a rendere nota la telefonata ricevuta dal Presidente del Consiglio. Mi ha assicurato il pieno sostegno alla nostra regione, con risarcimento per le comunità colpite dagli incendi, un piano straordinario di messa in sicurezza del territorio e del rimboschimento delle aree verdi distrutte. Già domani il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, sarà a Reggio Calabria per verificare la situazione e guidare le operazioni. Situazione drammatica anche in Sicilia, dove nuovi roghi minacciano campi e case. Devastati ettari di boschi e macchia mediterranea, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in sole, 12 ore. Continua l'allerta nella zona delle Madonie. Siamo stati sotto attacco, denunciano gli amministratori locali, puntando il dito contro l'origine dolosa dei roghi. Nel Siracusano le fiamme sono arrivate a lambire una residenza per anziani. Le temperature altissime di forti venti favoriscono i roghi del centro-sud. Vasti incendi sono divampati anche a Fara Sabina, nel Reatino e in Puglia. Decine di ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo vicino a Otranto, in uno dei tratti più belli della costa salentina. Evacuato un albergo della zona. La curva pandemica continua ad essere piuttosto stabile anche se oggi i casi sono in lieve aumento. 7.270 con 30 vittime. Sono 5 però le regioni a rischio di cambiare colore per l'ente del controllo europeo. Sicilia, Sardegna, Marche, Toscana e da oggi anche la Calabria. Cresce la popolazione vaccinata anche grazie ai giovani. Poco più di 35 milioni hanno completato il ciclo. Il problema resta la fascia dei 50-60 anni. Ma oltre 700 persone che esercitano professioni sanitarie non hanno ancora ricevuto neanche la prima dose di vaccino, mentre diverse Asla hanno preparato le lettere di sospensione o di spostamento ad altro incarico per medici, infermieri e operatori sanitari in contatto con i pazienti che rifiutano di vaccinarsi. Sono 57 in Sardegna e 71 in Liguria. Annunciate piogge di ricorsi. Ancora la cronaca. Il corpo ritrovato sulla sponda di un fiume nel Brenciano esondato è quello dell'ex vigilessa scomparsa l'8 maggio scorso. Da un primo esame non ci sarebbero segnali di violenza, ma gli inquirenti non credono che si tratti di un incidente di montagna. L'altra ipotesi è che il delitto di famiglia per ora non c'è il movente. Tre persone comunque sono indagate. Il corpo ritrovato a Temù domenica scorsa, restituito dalla Piene dell'Olio, è sicuramente di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di 55 anni, sparita tre mesi fa in Alta Valcamonica. L'identificazione da un paio di orecchini e una cisti sotto un piede. Come è morta però è un giallo. L'autopsia non ha rivelato alcun segno di violenza né fratture. È stata avvelenata? Per questo bisognerà aspettare gli esami tossicologici e quelli istologici. Ci sono tre indagati per la sua morte. Sono due delle tre figlie, la prima e la terza, e il fidanzato di una di loro. Accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era in buono stato di conservazione. Non può essere rimasto tre mesi sott'acqua. Laura Ziliani aveva indosso solo una maglietta di cotone. Uno scarponcino era stato trovato nei mesi scorsi. Il telefonino l'ultima volta era stato acceso la sera prima della scomparsa. Quale sarebbe il movente del delitto? Ci sono diverse ipotesi. Forse la casa in montagna, dove Laura Ziliani da Brescia andava appena poteva e che le figlie avrebbero voluto trasformare in un bed and breakfast. Era l'ultimo servizio. L'informazione torna come sempre alle sette domani mattina. Grazie per essere stati con noi e buonanotte. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.